Affronterete Skolas, Kel Baker, canto. Affronterete Skolas, Kel Baker, canto. Possono essere disinrescate, altrimenti... morti. Affronterete Skolas, Kel Baker, canto. Affronterete Skolas, Kel Baker, canto. Affronterete Skolas, Kel Baker, canto. Ci siete riusciti. Disinnescate mine. Ok. Affronterete Skolas, Kel Baker. Affronterete Skolas, Kel Baker, canto. 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 Nemici muovono. Voi vivete. Ben fatto. Tornatelo in camera di equilibrio. Avete lottato bene per anziare, vero? Avete vinto. Tesoro vi aspetta di sotto. Sentite come mi chiama. Tornatelo in camera. Tornatelo in camera.